Buongiorno ai lettori di Montenero Notizie, ci troviamo alla Villa Comunale a Montenero di Bisaccia e con noi Nicola Palombo, consigliere comunale di minoranza, a cui faremo qualche domanda. Grazie Rossano, un saluto a tutti voi e un saluto ai tuoi lettori, ai lettori di Montenero Notizie. Sta finendo l'anno, è il terzo per questa amministrazione e aspettiamo se ci sarà un messaggio di fine anno, un resoconto. Ma invece il resoconto fatto dalla minoranza, da Nicola Palombo, di questo terzo anno di amministrazione qual è? Per certi versi è un resoconto molto sintetico, molto striminzito, nel senso che è un resoconto dal punto di vista amministrativo non si possono purtroppo per noi contare tantissime cose. Qualcosa c'è ma non quello slancio che servirebbe al comune di Montenero, al suo territorio, alla sua comunità. Questo è quello che penso io e quello che vedo, che mi restituiscono anche tanti cittadini. per altri versi è stata un'annata movimentata, soprattutto un'estate movimentata dal punto di vista politico, degli equilibri, ma anche una primavera, perché a primavera ci sono state le regionali. Da lì poi tutta la crisi di maggioranza che c'è stata quest'estate, quindi se dovessimo ripercorrere facendo insieme un bilancio di quello che è accaduto politicamente nella nostra comunità, io direi che un po' di cose rispetto a tanti anni in cui non succedeva nulla, è accaduto, non entro nel merito perché ne abbiamo parlato tante volte, però quella cosa è sicuramente un evento che non si può sottacere se dobbiamo fare oggi qui un bilancio di fine anno. Sicuramente è successo qualcosa di importante, c'è un pezzo importante che sosteneva la maggioranza di Simona Contucci che di fatto è separata in casa, mettiamola così. Un'altra intervista dicevamo, chiedevo perlomeno, se questa crisi di maggioranza, questa mutilazione avrebbe avuto delle conseguenze sull'attività amministrativa. Qualche mese dopo si vede già qualche effetto di questa maggioranza più risicata, qualche effetto negativo sull'azione amministrativa, sulla quotidianità dell'amministrazione? Io, se ti ricordi, io ti dissi di sì e se ti ricordi, so che ti ricordi, il sindaco continua a dire di no, ovviamente. Io penso di sì, innanzitutto banalmente per un ragionamento proprio banalissimo che però sta alla sostanza delle cose. Le cose da fare sono tante in un comune come Montenegro. L'ideale sarebbe un'amministrazione che lavora con tutti e dodici consiglieri più il sindaco, quindi anche quelli di opposizione. Anche facendo l'opposizione si può aiutare. Se invece da nove di maggioranza ne hai sette, uomini per dipanare tante questioni ne hai banalmente di meno. Sarà banale, ma è una cosa che dobbiamo computare. Io sono sicuro che l'azione amministrativa ha avuto un grande stop soprattutto nel periodo della crisi, dove nessuno ha potuto pensare soltanto ad amministrare. Io dico questo perché sono buono. Nel senso che qualcuno potrebbe dire che in quel periodo nessuno ha pensato proprio ad amministrare, nel senso che si doveva risolvere la crisi. Mettiamo il caso che si sia anche un po' amministrato, ma di fatto la crisi ha distolto molto e è durata più di qualche mese. Ma qualche esempio concreto lo abbiamo di questa azione amministrativa che si è indebolita? Mi viene in mente l'ultima. Oggi in Consiglio Comunale è passata una variazione dove sono stati tolti tutti i soldi per la progettazione per la variante del piano regolatore. Quindi l'urbanistica, abbandonata da 13 anni, però adesso è stata definitivamente accantonata con buona pace del nuovo assessore. Io credo che in qualche misura invece non tanto il vecchio assessore, ma il gruppo politico che sosteneva il vecchio assessore non avrebbe permesso questo. Proprio per una questione, non perché erano più bravi, io a questo non lo penso, semplicemente per una questione di rapporti di forza interna. Prima c'era una tensione interna e questa tensione in qualche modo fa bene, perché devi regolare i rapporti di forza. L'arroccamento è un arroccamento, cioè ti sei chiuso con i tuoi, ma... Provando a tradurre, adesso comanda tutto Simona Contucci. Sì, provando a tradurre è questo, perché l'arroccamento vuol dire questo. Dopodiché non voglio sperare che continui ad essere una sorta di dialettica interna a questa maggioranza ridotta. Non è quello. Tu mi hai chiesto un esempio, io ho fatto il primo esempio che mi è venuto in mente, ma se ne potrebbero fare tanti altri e... un giorno li faremo, li elencheremo, li snoccioleremo. Negli ultimi giorni ci sono state parecchie polemiche sulle luci di Natale e sull'opera che sta al centro della rotatoria, che sta qui vicino, non si vede nell'inquadratura, ma... queste polemiche, così accese come non si ricorda, perlomeno sulle luci di Natale, io non ho memoria, possono essere la punta dell'iceberg, cioè c'è... verso l'amministrazione comunale, si aspettava l'occasione per darle addosso da parte dell'opinione pubblica, intendo. Ma guarda Rossano, allora la domanda sembra banale ma è articolata e la risposta sarà articolata. Perché qualche distinguo lo dobbiamo fare? Innanzitutto una premessa dovuta. Io che sono uno degli addetti ai lavori, dell'opinione pubblica ne so di meno di qualsiasi signore o signora che possa passare in questo momento lì. Nel senso che quando sei dentro la bolla ti rendi conto di meno di quello che succede al di fuori e la bravura è proprio cercare di capire quello che succede al di fuori. Noi tutti ci proviamo, io non me la sento di parlare per l'opinione pubblica. Quindi questo io non lo so. Lo vedremo e nelle democrazie poi si vede con il voto libero e democratico dei cittadini. E questa è una premessa doverosa. Secondo punto. Io distinguerei la questione della rotonda e la questione delle luminari. Allora sulla questione della rotonda io ho un'idea ben precisa che è quella di ma chi se ne importa? Nel senso che a me diciamo così non mi fa impazzire. Però non la trovo nemmeno, non riesco a disprezzarla totalmente, non la trovo nemmeno brutta. Semplicemente una rotonda. Mi hanno raccontato perché non avendo più i social per mie questioni personali che poco interessano, essendo stato di meno su quel mondo virtuale in cui le persone spesso passano il tempo a litigare, ho avuto meno la percezione di quello che è successo. Però ho visto che c'è un gioco a polarizzare, che è uno di quegli argomenti che divide sul nulla non pensando alle cose serie. Io spererei che l'amministrazione, e mi piacerebbe vivere in un comune dove c'è un'amministrazione che si occupa delle cose serie, di cui questa comunità e questo territorio ha tanto bisogno. Noi di spot elettorali e a livello nazionale e a livello regionale e a livello comunale moriremo. Non si può fare una foto sulla stampa, un comunicato stampa congiunto dove si dice che si inizierà un lavoro sulla protezione della costa e poi dove è finito. Non c'è più una comunicazione, non c'è un atto conseguenziale e quando escono gli atti è sempre che o la stampa o qualche consigliere di opposizione rimette il tema al centro, altrimenti svanirebbe. Io spererei che ci si occupi di queste cose, della protezione della costa, dello sviluppo territoriale, del perché Montenero non è in nessun nucleo industriale, del perché avevamo detto che avremmo lavorato per riportare il suo a Montenero e invece non lo abbiamo fatto, del perché l'urbanistica è scomparsa e ne pagheremo il conto come già abbiamo iniziato a pagarlo, mi riferisco a quello che è successo nel penultimo consiglio. Di come riqualifichiamo il centro storico, di che sviluppo turistico vogliamo, che progetto e che idea abbiamo di Montenero, di questo dobbiamo parlare e su questo ci si può anche dividere e confrontarsi, ma non sulla rotonda, è una rotonda, non mi interessa. Sulle luminarie, si poteva fare di meglio, ma va bene anche così. Questo è il mio pensiero. Sulle luminarie è cosa diversa. Sulle luminarie innanzitutto è successo che per l'ennesima volta il costituzionale diritto di critica viene visto come l'esa maestà e questo è non solo inconcepibile, ma è anche abbastanza urticante per chi lo subisce, ma anche per chi lo osserva soltanto, perché lì c'è un germe pericoloso, che è il germe di chi mette in discussione la libertà di pensiero e di parole. Seconda cosa, la risposta nel merito, cioè che la totale assenza di illuminazione natalizia, perché io credo che possiamo parlare di questo, e anche le aggiunte posticce non possono essere secondo me in qualche modo giustificate dalle giustificazioni che ho letto del sindaco e che secondo me lasciano il tempo che trova. Lei ha risposto al consigliere d'Antonio, dalla tua sensibilità ambientale mi aspettavo appunto una declinazione diversa, come a dire che le luci, meno luci, quindi meno consumo di energia, quindi meno inquinamento, questo sillogismo un po' stiracchiato, un po' tirato per la giacchetta, a mio modo di vedere. Uno perché la questione ambientale è chiaro che non si risolve diminuendo le luci di Natale. Due perché invece le luci di Natale, che possono sembrare un argomento di poco conto, tipo quello della rotonda, invece sono un argomento abbastanza importante, perché dietro c'è che idea di paese hai dal punto di vista turistico, cioè la Rino con le luci ci sta creando nel periodo di Natale un impero. Noi che siamo uno dei comuni, il mio modo di vedere evidentemente non è questa l'idea condivisa da questa maggioranza, noi siamo uno di quei comuni che dovrebbe puntare sul turismo, su un tipo di turismo, poi se vuoi ti potrò dire anche che tipologia, insomma ovviamente compatibile con le nostre risorse, con le risorse agricole, enogastronomiche, con il nostro territorio, quel tipo di turismo là, ma comunque sul turismo. E le luminari, oltre a creare l'atmosfera natalizia per i residenti, sono anche un puntare su quel settore lì per il periodo natalizio, perché insieme alle luminari abbiamo il presepe. Allora lei, scusami, immaginati Rossano, i turisti che verranno a vedere il presepe che passando per il paese vedranno un paese spento. E il paese spento è un po' la metafora di questo paese che si sta spegnendo. L'ultima domanda, passiamo sull'altro fronte, che è una domanda già fatta anche in passato, la riproponiamo però. Invece lo stato di salute della minoranza, del centro-sinistra, qual è? Rispetto a qualche mese fa, quando ci siamo sentiti, insomma si riuscirà a arrivare a un listone da contrapporre all'attuale maggioranza? Sia che vada da sola che si divide in due liste a sua volta la maggioranza, visto le spaccature di cui abbiamo anche parlato. Allora, anche qui la domanda ha in sé due o tre domande e quindi la risposta ne conterrà altre tante. Innanzitutto sì, la domanda me l'hai fatta già non una ma altre due volte. Fai bene a farlo, sei come il dottore che ci rimisura la pressione di tanto in tanto. Noi fondamentalmente abbiamo avuto un problema iniziale di due linguaggi, tra me e l'ex candidato sindaco De Risio, che sono risultati abbastanza incompatibili fra di loro. Abbiamo avuto dei chiarimenti importanti nell'ultimo periodo e quindi in sostanza i rapporti politici non sono totalmente compromessi per provare a costruire un'alternativa. Poi il punto è politico, io non credo che basti, non solo non credo che basti, non credo nemmeno che interessi più di tanto il fatto che io e De Risio in qualche modo abbiamo trovato una chiave di lettura di due linguaggi che un po' cozzano, perché lui è più, diciamo, se mi posso permettere, stile 5 stelle, un po' più... e io vengo da una tradizione un po' diversa, più della sinistra classica. Non è tanto questo, è che credo che non basti. Io credo che è necessario ormai per Montenero, e anche per il campo a cui tengo di più, che è quello della sinistra e del centro-sinistra, avviare un cantiere. Allora, lo diceva ieri bene Bersani a Conte, a Di Martedì, io non lo so se lo hai visto e se non lo hai visto recuperalo, perché è stato molto bello. Conte diceva, noi possiamo dialogare sui temi, e quello lo possiamo fare anche io e De Risio, ma lo possiamo fare anche io e altre persone. anche con qualche pezzo della maggioranza si può dialogare sui temi, perché credo che lì ci siano anche delle buone professionalità, l'ho detto anche in consiglio nel mio intervento quello lungo, credo che vada buttato tutto. Dopodiché io credo che non basti dialogare sui temi. Io che ho una visione politica del mondo, credo che ci serva quell'ingrediente in più che si chiama politica, che ti costruisce invece il disegno generale. Cioè, io voglio capire con quali forze, con quante persone, posso costruire un disegno che è la Montenero che io vorrei. voglio costruire insieme a delle persone, non solo un progetto per Montenero, ma anche un'idea di Montenero. Che non vuol dire soltanto realizzare A, B, C e D, ma anche come si sta nelle istituzioni, a che cosa serve l'impegno civico, riqualificare il senso politico delle cose, restituire alla cittadinanza un afflato che adesso manca e anche una, si sarebbe detto, una visione. Io lo so che quando uno parla così sembra il politichese, perché vieni tacciato di questo, ingiustamente, perché? Semplicemente perché usi parole astratte, che sono meno concrete e quindi meno comprensibili, che però sono più potenti. La bravura sta nel tradurle in azioni concrete, ma chi usa queste parole non vuol dire che non abbia anche la capacità o la voglia di tradurle. Secondo me questo bisogna fare, bisogna aprire un grande cantiere delle forze progressiste, civiche, anche largo, più largo del classico centro-sinistra, di persone che non hanno padroni, che non devono rispondere a Pinco, a Tizio Caio e Sempronio, che invece riescono a costruire intorno al bene comune, al territorio e alle necessità di Montenero una stagione diversa da quella che abbiamo visto negli ultimi anni, che oggettivamente sta portando Montenero a non avere risultati edificanti e a indietreggiare sul piano demografico, sul piano culturale, sul piano della pianificazione e dello sviluppo economico e sociale. Bene, la domanda è la terza volta quindi, vuol dire che la rifaremo ancora, quando capiterà l'occasione sarà passato un po' di tempo. Grazie a Nicola Palombo per l'intervista, per la chiacchiereata, salutiamo i lettori di Montenero Notizie. Grazie a te Rossano e auguri di vero cuore a tutti i tuoi lettori, ai nostri concittadini per queste festività natalizie e per il nuovo anno, che sia un anno di pace e anche un anno di diritti civili e sociali. Grazie a tutti.